un nero sui paesi, ne no tutti se gioca a memoria e adiaga e rammagate rimanere sull'età vado a paghino avola ciclo e palazzone qua in questi 5 paesi che avevano un monopolio se io gli dava il 7,9% ci stia saperi affittuiti, saperi dipendenti e tutto questo 13,7,9% l'80g per cento un 92 anzi per cento paghino, noto paghino, noto, lavola ciclo e palazzone ma che vuoi fare tu, fammi capire il luogo, ma che hai capito io? mettiamo cacchisto e l'avevo autorizzato, giusto? mettiamo caccio ma l'avevo autorizzato non come il proprietario ma come subagente non l'ho trovato subagente, ho 7pc andato esatto e ho 91% cacchisto e ho 90 euro e a questo punto tu non hai raggiato un 41 pulito, il luogo, 7pc ce lo assaporizzo grazie 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 grazie